passi ai passi fra ai passi dov'è sotto vado sotto dov'è il cancro mico ok raga lo prendiamo il bandit ma lo chiudiamo lo chiudiamo regal bandit perché stiamo tenendo no raga non so dove sia non si può aspetta lo no io hai fatto ok faccio il giro da garage faccio il giro da garage calmi calmi abbiamo tempo abbiamo tempo dove stavano dove stavano vai vai un attimo rega un attimo ok io sono andato a bricciare qua rega dobbiamo tenere rega dobbiamo tenere un attimo ho detto di aspettare un attimo rega aspettate vai stelta poco riusci a andare al brister ero c'è il frost lì all'angolo all'angolo tutta a destra cioè è sdraiato da farti quell'incavo ragazzi avete fatto la botra cazzo si fra riuscite a farmi col frost che è sdraiato cazzo mancano 15 secondi ragazzi trovo dietro al banco bravi torna del pinzano smilato sei stato scoperto erano tutte e due lì dai come prendo io il defio ma in realtà non prende il touch prende il termite prende il termite tisi prende lo zofio cambia perché? perché si però ma se stanno sopra stanno in altre parti dobbiamo averci del touch perché non abbiamo per verticalizzare dobbiamo individuare una bomba vabbè lascio il drone in alto come prima come la borsa una d'altra ma d'altro ma di che sveglia troppo pressi scala fra 8 attenzione il drone è alleato ha trovato una bomba dai io tengo io il defuse si magari si sono come prima il drone è alleato ha trovato una bomba si si ok ok 10 secondi all'inserimento si potevo prendere q così me lo vedevo dove cazzo potevo la camera scuola bomba individuata l'obiettivo è raggiungerla si no no c'è il drone fra mai c'è il giacal meglio se vai te fra fra meglio se vai te dai drone io e c'è il giacal allora quattro principale libero non ho visto scale guardano la cam fai la cam fai la cam andare stanzino stanzino libero aspetta sei già entrato guardo corridoio corridoio libero guardo riunioni libero lounge dirigente libero cielo libero andiamo in pronte tutto libero sopra entro mi riesci a fare le bottole da sopra poi le faccio più in safe le fra ma ne abbiamo uno qua sotto mi sembra di aver visto come hai libero drone drone raga bandit qua raga lo chiudiamo bandit qua bandit qua no ehm michael sulla scrivoniera sdraiato raga 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 un attimo un attimo aspettati attesto aspettatemi un secondo un attimo raga un attimo un secondo un secondo che vado a briciare vai vai raga plantate plantate un secondo se riescono a plantare no no niente vai plantate plantate non riesco a briciare qua ma ce l'hai tutta a sinistra corre si ok bravo difensori amicali missione d'attacco riuscita ma che c***a ah dai ora penso vanno sopra penso prendo lo sledge sempre addorment andiamo no 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 andiamo dai q vai ok passiamo tutti sopra se stanno archivi vediamo prendi il defuser prendi il defuser michael passa con noi spawnati qua ma va andava bene chi avevi prima dove benissimo nasce valqueria ho capito ho capito pf dai una volta si stanno in raga come prima sopra come prima sopra si preoccupa molto ma no io so già la scena mazzatroni raga però qualcuno deve scendere ok se inizia a venire di qua iniziate a venire quelli qua uno che passa fate la camera fate la camera uno che viene di qua ripostiglio libero brava gente di borsa vai guardo guarda ufficio potete entrare potete entrare ufficio c'è libero prendete prendete è libero è libero tutto sopra ok arriva coprite flank coprite flank coprite flank di lucernario raga flank di lucernario stacci te mettici anche in cremo inizia a verticalizzare riusci a fare gli iq senza qua e gli iq i bandit eh sì credo di sì uno è andato raga uno che scende con michael in open uno che scende con michael in open un bel buco gigantino arrivo dietro dove da me facciamo andare plant bravo diamo il plant no verticalizza ancora da dove 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 raga 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 che sta succedendo no no raga open open madonna bravo vai vai plant vai plant vai plant ciao bravo 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 è l'uomo a quadro vale carico e carico on fire on fire diamante l'uomo a quadro il sclap di ut ok così ma ti immagini che che li fanno poi c'è tipo se ne accorre prendendo con ibana eh tirando la carica stranamente non va proteggete le bombe vuo 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 che fu ceffu f f f ragazzi come chi fa attrio e ascensore le bosole Vai Vai, come sta lì, io sto sopra se ne vale al comando nuovo presidente della repubblica sicuramente sarebbe più roba che bellissima, è una cosa bellissima raga silenzio raga silenzio che mi dronano open il termite arriva sif, no, ash raga silenzio toucher no, no raga dov'è Fran, dov'è eh, scale, scale vicino obiettivo aspeccio no è qui mi ha fatto mi aspettavo no, non è un mostro raga, dovete cioè, non vi può pushare entrambi così sopra, sopra ho trovato una bomba, proteggetela l'ho sceso, sono quasi aperto ce l'hanno scopato cosa fai te? oh drone nemico in arrivo inizia il call missione a rischio disinnescatore di bombe fiazzato stacca stacca che è? eh, lo so oh mio dio, è vero nell'altra bomba una sempre nei corridoi lì in bomba eh, vale cosa? eh, 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 eh si pushano, si pushano lanciagli il filo spinato lanciagli il filo spinato fra il filo, il filo sensori eliminati missione fallita no raga, ma non... com'è che vieno pushati? ah, ah hanno pushato in garage diretti cioè uno sparava dalla porta e l'altro entrava non è che ci vuole tanto archivi si beh dai dai raga giocando in tre giocando in tre questi ho giocato tutti difendete l'area e proteggete le bombe sulle porte sulle porte si sulla finestra, si lasciamela aperta la finestra un attimo non era meglio dell'altra parte? ok dispositivo attivato cambio caricatore attenti raga attenti si pushano di nuovo eh, attenti magari pushano come prima o ricarico hush hush diffuser bello ok apri l'abbiamo in altro mi sa, abbiamo una camma ma l'hanno fatto in opere abbiamo uno ok l'ho aperto open ok attenti ragazzi, l'hanno preso sopra l'hanno preso sopra silenzio ragazzi silenzio silenzio teniamo ragazzi un minuto l'hanno preso sopra quindi potete tenere tranquillamente l'hanno preso l'hanno preso l'hanno preso l'hanno preso l'hanno preso mi sapevo dove fosse guardate dove ho sparato guardate vabbè si è praticamente rubata perchè? l'hanno preso 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 con l'hanno preso l'hang l'hanno preso l'hanno preso salle l'hanno preso l'hanno preso va bene bravi rega bravi rega ne cerco uno vediamo se se stesse aia smettila o rega forse mi tagliano i capelli 10 minuti così tanto 5 così tanto un minuto quindi ok non aspettiamolo che te le tagliarle non lo so no ma figa perché un mio mio amico mi ha detto che che sto qua tagli i capelli cioè quello che mi ritaglia di solito a casa sua non ho capito forse aspetta no in realtà può uscire c'è praticamente ferrobo dice che vuoi da super orcato tanto che cazzia frega non ho capito non ho capito non ho capito ora abbiamo c'è Fsk Antoni bello bello ma abbiamo Sfsfs vabbè Fsk hollare Sfsk ragazzi una seconda data in singapore cazzo ok ragazzi abbiamo abbiamo xtoni abbiamo toni quello d'altro giorno toni toni è toni è toni nix no madò domani mi interrogano in chimica regà ormai da tanto guardare le slide ormai le so quindi easy clap continuo a guardare le slide ormai le ho studiate praticamente è un brutto problema avere gli occhiali perché ci si vede il riflesso eccolo toni bella ragazzi bella toni adesso arriva quello là l'altro 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 tardo andato a fare la tavola non so perché a quest'ora non so perché a quest'ora eh speciale noi ci ne abbiamo fatte poche regà cioè se mi sa che riusciamo a fare un'altra due se ci state abbiamo fatto tre partite ma te è di argento vero? anche te era un caso era però sono mi guardavo un paio di amici miei cioè perché giocavo sempre solo giocavo diversi ero però c'è barso provando in team sono salito vabbè sì per forza anche noi adesso ste a quanti punti stai? sempre come prima? sei lì che lo scala piano piano stefan ci sei? oh hai la mamma puttana stefan no non c'è no se non risponde a questa te hai la mamma troia stefan è po' assente no vabbè non c'è non c'è sì? eh? che buono eh stavamo parlando qua del più e del meno del meno e del più e del più e del per così io ho sentito qualche mamma puttana eh no stavo dicendo a Tony mi stavo insultando cioè ci stavamo insultando così un attimo no no io ho sentito la mamma puttana di stefan però no ho sentito male fra no no ho sentito male fra ma sai quello che è bello? che ero mutato no ho sentito male ho sentito male perché Tony gli ho tirato una testata poi me l'ha tirata l'una e stavano litigando un attimo qua eh vabbè confermo confermo eh confermo dio armadillo che palle mi devo svegliare sette e mezzo sette e mezzo è troppo presto come andare a scuola sette e mezzo beh a scuola fai prima oi oh ma ma perché ma perché questa aggressività ma io mi spavento così ma così io non gioco più con te adesso devo andare a pisciare perché mi hai spaventato torno subito e anche oggi ci siamo in presa dei campi oggi siamo qui non è importante se piangere ma si è bellissimo siamo preparati siamo bella a fuori abbiamo una panica all'altra sperando se è un motivo bella in no oh questo è ut ew dio cane il intervento dio dio porco scusa ti quanta pool bengottis ixto accio world bank rami così quasi vado no come vai chi dici stai davanti puttana cosa voglio non lo vuoi il platino non mi interessa non lo vuoi la cittadina non lo voglio non lo voglio io adesso qua prende dice no rega io vado coltivo no parco io mi sto portando è bella bella rip 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 è stato bello giocare con voi è stato interessante eh vabbè è capitato capiterà prima o poi capita eh deve andare così la vita eh va così va così va così un giorno hai la figa e l'altro giorno hai il cazzo in culo eh va così va così corretta si è abituato più a prendere il cazzo in culo che una figa no no si si va così facciamo il caid il cavera rega il cavera no eeeh 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 potrebbe anche essere un minuto un ben di trove eh va bene va bene va bene va bene va bene va bene eh vabbè dobbiamo l'inglese oh si sente basso brodomo troppo basso oh ma chi è che che fa casino con il microfono io no ma cosa io ma se tua mamma sta facendo i pompini a quest'ora digli smettano no 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 oh runei peruviano non roppere il cazzo gli smettano eh perchè mi fa incontrare si si come invece tu sorelle che cazzo sta a fare lo sto prendendo in gola no in salotto sai eeeh il termite ragazzi si impara da piccoli il termite prendiamo un jackal un jackal il termite jackal un nomad no montagna un montagna vedi montagna main montagna qua termite regà termite porco dio no l'hai levato regà eh regà il termite figlia adesso come cazzo apriamo 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 niente però se partiamo così posto io avevo regà il termite se lo dicevo prima lo prendevo ho detto l'ultimo secondo ma adesso andavo all'operatore dove stanno armaria trono trono attenzione vabbè rip rip vabbè rip sempre non potremmo aprire comunque non apriamo da nessuna parte qua c'è l'ison sopra cosa ti fa l'ison sopra guarda non c'ha non riesci neanche a prendermi il drone stascazzo la caída è bene però te la previ via regà madonna 5 secondi dobbiamo entrare dalle porte occhi aperti per il nemico devi recuperare il sinnescatore passiamo da sopra regà tutti sopra andiamo vai ma ecco bar sei ok vai drone bar bar libero qualcuno che passa da un'altra parte attento vale sei da solo sei un pazzo bar libero corridoio di giochi libero nido nido libero corridoio libero e tutto è libero sopra brandine libero è libero tutto regà libero tutto tutto è libero tutto è libero ok arrivo andiamo andiamo regà lo chiudiamo lo chiudiamo eh lo chiudiamo lo chiudiamo atto legion e che facciamo raga adesso? eh devo verticalizzare copritemi copritemi provo a verticalizzare regà copritemi copritemi dall'altra parte ok ah c'è un altro punto lo prendiamo se fuori dov'è dov'è? l'ager da me raga l'ager da me un aiuto l'ager da me l'ager da me da me nello stanzino è chiuso è chiuso è chiuso raga 20 di vita bravissimo bravissimo abbiamo allora abbiamo abbiamo il montagna vai vai fai il filo fai il filo fra sta dronando michael raga vi drona michael vediamo il drone ok uno lì sul ping vai vai drona stanno tutti verso B stanno tutti verso B stanno tutti in B porno c'è un frost sotto vai no fra che cosa fai fra no fra che cosa fai fra mi ha coltellato perché regà mi ha coltellato no regà toni ha tirato la coltellata butta le fumagine michael entri a sinistra intanto che hai un hai anche un frost a sinistra comunque vai vai entra a sinistra è tutto sì uno tutto a sinistra uno tutto a destra è il frost michael è il frost dietro di te uno a sinistra e uno a destra ve l'ho detto è il frost non potete plantare niente ecco l'hai visto vai 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 entra prova a plantare chi ha il plant coprilo 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 fra coprilo fra dovevi coprirlo bravissimo la squadra è una cosa raga ma perchè raga mi ha coltellato invece di sparare quando c'era il frost mamma mia senza senza hardbreacher raga senza hardbreacher ok mamma mia che round bravi eh sì magari si prendo le granate ah no 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 le granate ancora prende le granate no è troppo abituato lui con le granate cioè adesso raga tipo in confine il back non può tirare più le granate eh però dipende il back raga raga stavano intere fuori stavano 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 bravo stanno sempre lì stanno sempre lì stanno sempre lì però ne ha trovato una bomba stavano passiamo passiamo tutti da sopra e poi scendiamo raga come prima prendiamo sopra e poi scendiamo a bruciare nello stanzino stanzino di stanzino principale no nella stanzino di b eh sì stanzino principale di b sì è fra quello il principale ok e lì dove ho fatto io il frost prima non ho spottato erano spottato dove lui ha fatto i jaegers non ho visto c'è lì son sopra c'è doveva raffredd e doveva raffredd e doveva raffredd vai vai come prima raga 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 cazzo per un ro eh per una cam eh eh stavo per lanciarla la stordente per farla raga e c'è lì per eh vabè eh vabè raga ok non mi sentivo più raga drone fermi ce l'ho io c'era io bar libero raga non possiamo stare tutti qua fuori tutti insieme no ok corrido io bar libero digger qua digger qua raga stiamo dronando in tre uno deve andare ah no c'è se digger qua raga No raga non mi va il drone Stanno Nido non ci sta nessuno Vai Michael chiudilo da sinistra Vabbè è uguale fra uguale Raga l'ision ce l'abbiamo in corridoio giallo Spot sull'ision Attento l'ision Attenti l'ision L'ision è Vai 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 in corridoio raga in corridoio Qua 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 È andato andato fatto Bravissimo fra bravissimo Raga ma a toni nessun rest Fra fra dove Sotto Fammi vedere Dov'è il buco Andiamo andiamo a briciare Eh Riusci a fare i bandit fra Riusci a fare i bandit Eh no mi sa che sono troppo in qua Ho certo è hit raga Ce la fate Ma qua non è spaccabile No fra no E quindi Eh non possiamo Vabbè ok dall'altra parte possiamo briciare Però lì c'è il bandit No non possiamo neanche qua No No non possiamo neanche qua Rd attivo Riletto Ben ce la viene del culo raga Fai la botola Fai la botola No raga zero Fai la botola Aspetta uno sale uno sale Dov'è? Dov'è? Dove sarebbe? Dov'è c'è raga Non è stato la gomma Preso Vai vai di botola Bravo Lancia una granata fammi lanciare una granata Tony Una granata Una granata Porco dio madonna che palle L'abitudine Vai devi inserirci da quella parte Tony Adesso vai Ah no raga sta uno dietro al camino Cioè vicino al fuoco E sta anche uno dietro E niente Vabbè Il tempo è scaduto Va bene Eh raga non avevamo niente però per distruggere i bandit Dovevo prendersi la granata Eh senza i rats su un cazzo Eh granata volevo lanciare Guardate l'abitudine Va bene va bene Prendiamo l'IQ raga Prendiamo l'IQ Prendo Prendi sempre il montagna Fra prendi il montagna Ma come ti ha fatto col montagna? Prendo il nomad Cazzo prende l'IQ raga IQ raga Ah Stanno pingando 9 infatti Non so se magari quelli Quelli che pinga 9 Ho su quel 9 fisso Dovete usare il drone per trovare una bomba Dai raga Prendi Ok Direi di passare dall'altra parte Sì Il drone è alleato ha trovato una bomba Lo ha mutato ragazzi Anniut mozi Capcan lo sapeva Eh era ovvio Capcan è messo uno in bagno dall'altra parte Uno qua su ingresso Regà proviamo a farci Ah possiamo rit... Ah no Anniut 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 No raga dall'altra parte dobbiamo andare No 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 Si risponde tutto Eh no non ho visto gli spawn Mi ha detto passando a dietro Venite dietro Arrivo Bomba individuata Tani dovrebbe andare sotto a fare i mute Così riusciamo a bricciare E noi ci provo raga Dittemi dovete dovete bricciare I brandigli Eh no raga stavo qua sotto Porco Ah Stavo di sotto raga Ci sono io fuori Ci sono io fuori Dov'è Vai no ma Vai io dare una mano Fa qua È nell'angolo raga È nell'angolo È in bagno Bravi Non ho Non so riuscito a prendermelo Ok ho fatto alcuni cappen L'hanno fatti tutti Bridge non riusciamo Vero Stava quello sotto Quarto due Vado a mettere il nomad Stava comunque state attenti Che stanno Raga sto Stam flencando Stam flencando Stam oggi sotto Non c'è Non riusci a bricciare Vero Hanno il coso Michael vai in corridoio No raga ho bricciato Bricciato Ok vai Bravo bravo Ok Riusciamo a Un drone Un drone Rega io non c'ho droni Drono Vai Hai impronte Hai impronte No raga non dronate tutti Non ce le hai impronte C'è sempre lì il maestro che ci spotta C'abbiamo Un dison qui Non riusciamo a inserirci con il montagna almeno Bravo Michael Lasciami il plant e stai davanti Calmi calmi Vai entra te Michael Vai Un in fondo Un in fondo Uno in bagno Dove rega dove Scale scale Plante rega Plant Coprirò a sinistra Fra fra devi coprirlo Fra Bravo Planta planta No 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 l'ultimo secondo Guarda Che culo Che culo Che culo stiamo ancora sotto Stavo Prendiamo armeria Prendiamo di tutto Figa Prendiamo Kaid Bandit Mute Prendiamo Abbiamo anche il mute Raga Ecco dio Abbiamo più di filo Figa Abbiamo 3 Abbiamo 4 c4 Abbiamo Sono in 4 Che hanno 4 c4 Guarda Guarda Qua è stato Vado a prendere Quell'altro Raga la botta Chi la fa? No Perché devo mettere Tutte le Dimmi dove sta La vado a fare io Vado a fare io Qua qua Vicino ad asilo Praticamente alco di due Mi sembra Ah ok Cos'è Li vuoi qua sulle granate Per le granate Sì Si Si Potevi anche metterle un po' più a destra Così ti lo fanno Per non far entrare i drone Ok Adesso esco Abbiamo usato tutto C'è una file Valkyrie a spaccarci un po' qui sopra Vale pure dall'altra parte Vai raga Faccio Va bene Va bene Basta 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 Mi stai avvenendo abbaricato Mi stai avvenendo abbaricato Io però Basta 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 Eh ho capito Ma Silenzio regà Silenzio abbiamo un dash Non so dove Dov'è fra Dov'è Eh qui E' andata D'altra parte Knock Mi dronano Mi dronano Mi dronano Mi dronano Capore di Javal Attenti Figa raga Mi hanno chiuso Mi hanno chiuso Ash e altri sopra Ah no 20 di vita Ash Tenete Ash 20 di vita Mi guardo cam Mi guardo cam Mi guardo io Mi guardo il cam Mi guardo Il solito bliccio In bidoni Non c'è nessuno Corridoio Normale Non c'è nessuno Ash E' fuori E' in dragone Ash in dragone Fuori dalla porta Non ve lo spio Ok Non è Fuori porta di dragone E' sempre lì In dragone Fuori porta Ok no Si è lontano Si è lontano Guardo l'altro corridoio L'altro corridoio Non c'è nessuno C'è Ash qua Sempre su porta Fuse attenti eh No no ma Attenti Attento Michael 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 Ti ho detto che è su porta Fra Sempre porta Ash Sempre su quella porta Non lo spot L'altro corridoio Non c'è nessuno Ash è sempre quella porta Fisso lì Fisso lì Dove aprono Fizzano qua Ash sempre lì eh Non si muove proprio Ash vuole entrare Sempre su porta Attento vale Tu vale Ash è sempre lì fuori Raga Entra 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 Entrato Ash Bravo No Scusami Scusami Raga teneteli 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 Stanno tutti di là Stanno tutti di là Tutte due Teneteli Fatelo pentare Raga Ok bravi Scusami Se l'ho rubato Ho visto Quello che mi stava sparando Ho subito sparato Ce la volevo rubare Si appesa Si appesa Non parla Non parla No 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 Peso Peso Raga scusate Non è la mia partita Faccio un po' schifo Adesso Facciamo difesa lunga No niente Ok No 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 Chi prendo io L'ultima volta che l'abbiamo fatta L'abbiamo perso malissimo Prendo un AKOK 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 Abbiamo un esterno Abbiamo un esterno Stiamo tutti dentro Ok ok Ah si Proteggete le bobe Si L'ho L'ho Che Questa Questa Che Prendo un AKOK Il L'ho L'ho Hanno Le Molto Ti Puede Il Che 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 la linea di tiro della chiesa mettiamo un rinforzo qua dai se ce l'abbiamo mettiamo un rinforzo qua tutto a destra ragazzi ci sta un c4 qui ma la cavonna mettili mettili su port sulle due porte di A mettili sulle due porte di A si 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 sulle due porte di A vai eh oh oh ingresso barricano faccio il cancro ah ah siamo tutti qua ma guardi mi spaccano i banditù qua non dite me non so di spazio no 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 vabbè tutti vieni si stiamo io lo dico ok stiamo tornando stiamo tornando trochi ok da dietro da dietro da dietro doc doc attento si devo ricaricare attenti regà attenti hai bisogno di cura la finestra la finestra vattene 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 ti riesco a curare vai sei fermo sei fermo fermo vai aspetta controllo yoga oh bravale bravissimo copro corrido io destra copro corrido io destra copro corrido io destra io lasciatelo entrare copro copro destra copro destra tenete 20 secondi regà camperatela grande bravo copro destra io regà 15 secondi no 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 raga dove è fran dov'è è uno corrido io corrido io dove fran corrido io dove sinistra o destra no era era destra però non so scuola adesso un'altra bomba giacal no raga giacal è un'altra bomba a sinistra era tutto a sinistra c'era la bomba si è spostata disinnescatore trovato proteggete le bombe eh niente sono andati al plant su quel punto la bomba disinnescata missione fallita non ci eravamo benissimo se no non avevamo un c4 regà come se con l'altra parte mi ha abbracciato di là dai dai cos'è riproviamo sta difesa? eh si però riprendiamo un mute o qualcosa io qui prendo qualche idea vaffalculo prendiamo il bandito il mute anche il castle che è stato utile prendo il mute prendo la Jäger che avevamo prima dai dai io ho i bandito da brandini e tu li metti indietro proteggete le bombe si però vi un c4 in bar si ci sai vale ah raga abbiamo rotation vero si ce l'hai Michael ok passano dall'altra parte stavolta stanno andando a lasciare il drone ma metti tu qua i cose tu li ho bandito qua 10 secondi no no fra devo metterti ancora uno Jäger un attimo il nemico ha trovato una bomba preparati a... vai stai ti tengo il c4 io, ti tengo il c4 sotto guarda se entrano e vedo che non lo distruggano resti tu qua? resti ok sotto sotto me lo annuncio fatto il c4 non so il Q viene da dietro dietro dove? da dietro runeer im bagno, c'è uno è postato lì che mi aveva già fatto il c4 non so, uno è dietro non c'è più il c4 giusto? no sto andando in drago per caso? sto andando in bar uno sta andando in bar ragazzi flenco flenco eh 3 metri qui eh lo so però sto andando dove prima? no e' più? non c5 ok 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 un uo che sopra c4 ragga oh vabu 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 a vabu No, mi appena smuore quel Bravo, bravissimo ste Tieni, tieni Guardiamo il camp di bar Stanno al corridoio sinistro Corridoio a destra da voi Non ti vede Corridoio sempre a destra vostra Tieni fra, tieni che hai chiesto Non possono aprirli, mi so Sinistra, sei, sinistra Sto aglantando Eh vabbè, vaffanculo Figa oggi, oggi non abbiamo giocato bene 9-3 ho fatto Eh fra, vabbè, capita 9-3 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti